15. A Richmond Pochi minuti dopo, Marguerite sedeva accanto al marito sull'ampio sedile della sua lussuosa carrozza e i quattro focosi bai correvano al gran trotto, il cui eco rimbombava nelle strade silenziose. La notte era calma e serena, la brezza sollevata dal rapido movimento, tiepide e dolce come una carezza. Ben presto lasciatesi alle spalle le case di Londra e attraversato il vecchio ponte di Hammersmith, Sir Percy spinse i cavalli con raddoppiata velocità sulla via che conduceva a Richmond. Il fiume dispiegava la sua linea sinuosa sotto il raggio della luna, come un enorme serpente argentio e scintillante. Gli alberi allineati ai grandi intervalli lungo le sponde interrompevano a tratti, con una chiazza di ombra, il candore luminoso della strada e gli splendidi puro sangue corrivano a rotta di collo, trattenuti appena dalla mano robusta e sicura dell'impassibile guidatore. Queste gite notturne, a ritorno dai balli e dalle cene della Londra elegante, erano la gioia della giovane donna, la quale aveva subito fatto sua la bizzarra idea del baronetto di abitare tutto l'anno in campagna nella loro ampia e principesca tenuta vicino al fiume, tornandovi ogni notte, per quanto tarda fosse l'ora in carrozza scoperta, invece di ritirarsi in capo a pochi minuti di tragitto in qualche vecchio e malinconico palazzo della capitale. Era piacevolissimo percorrere così le solitarie strade di campagna sotto il romantico chiarore della luna o delle stelle, a tu per tu con la natura placidamente addormentata, col volto spiorato da un venticello ristoratore, benefico dopo la chiusa e arroventata atmosfera di una sala affollata. Il viaggio era breve, poco più di un'ora quando i cavalli erano freschi e il baronetto li lasciava sbizzarrire a loro piacimento. Quella sera padroni e animali sembravano avere il diavolo in corpo, come di consueto Sir Percy non apriva bocca. Guardava dritto davanti a sé, senza quasi trattenere le redini e il suo volto, illuminato in pieno dalla luna, sembrava eccezionalmente serio e concentrato. Marguerite, immobile accanto a lui, avvolta nel mantello, l'osservava non vista. Messa com'era di profilo, non poteva scorgere l'espressione degli occhi azzurri dalle palpebre abbassate con aria sonnolenta, ma nella linea ferma della bocca, improntata a insolita determinazione, nel robusto collo firamente retto in tutto l'atteggiamento, c'era qualcosa di non ben definito che le richiamava con singolare efficacia l'immagine di un tempo, quando il vanesio gaudente di oggi l'aveva tratta col fascino di passione intensa e ardente, con l'impronta di energia dominatrice che aveva creduto di leggere gli inviso. Un subitanio e involontario senso di simpatia per l'uomo di cui portava il nome, ma che era rimasto un estraneo nella sua vita, le gonfiò il cuore. La crisi morale che l'aveva scossa fin nelle più riposte profondità dell'essere, la rendeva propensa all'indulgenza per le debolezze e le imperfezioni altrui, poiché con l'efficacia terribile dell'esempio le insegnava come non sempre e in tutto siamo responsabili di ciò che in apparenza ci condanna. Più volte aveva tentato di frenare un moto di disprezzo, quasi di rancore alla vista dell'esistenza inutile, oziosa, stupidamente superficiale condotta dal marito. All'idea della sua incorregibile inferiorità spirituale, eppure chi avrebbe potuto dire se, fino a qual punto, queste non dovessero attribuirsi all'imperfetta educazione, all'ambiente tristissimo in cui il ragazzo si era trovato costretto solo tra una madre incosciente e un padre unicamente assorbito nel proprio dolore. Anche lei, lei onesta e buona, lei gelosa della sua dignità di donna e di gentildonna, si era piegata a suo malgrado, trascinata dalle circostanze, a una colpa ben più grave di quelle puramente sfavorevoli che rimproverava tacitamente al compagno della sua vita, con un ardore fatto in gran parte di dispetto. Un giorno prima avrebbe riso in faccia a chi le avesse predetto che si sarebbe abbassata a spiare i propri amici, a rappresentare un'ignobile commedia per carpirne i segreti, che avrebbe consapevolmente contribuito alla perdita di un uomo nobile e degno fra tutti. E invece, istintivamente volse un'occhiata furtiva a Sir Percy che, tutto assorto nell'occupazione del momento, non indovinava certo quale tempesta sconvolgesse il suo animo, ma ne ritrasse subito lo sguardo, quasi impaurita, perché sentiva che lui, se avesse saputo, l'avrebbe condannata inesorabilmente nel segreto della propria coscienza e non avrebbe trovato per lei una parola di indulgenza, di conforto, di incoraggiamento. Sentiva che la sua onestà rigida e salda gli avrebbe impedito di vedere nell'amore fraterno e nell'urgenza del pericolo scuse sufficienti a un tradimento, a una delazione e che una disistima più profonda e un disgusto più amaro sarebbero stati i soli frutti della confidenza che suo malgrado le bruciava le labbra. Così gli uomini si giudicano l'un l'altro secondo le concezioni unilaterali della propria mente, senza reciproca compassione, senza ombra di alta e generosa pietà. Immersa nelle sue affannose riflessioni, Margherite non si era accorta del trascorrere del tempo e fu con un senso di sorpresa mista a dispiacere che vide i cavalli oltrepassare il massiccio cancello esterno della sua casa. La tenuta di Sir Percy Blakeney in riva al fiume godeva una meritata notorietà. Il palazzo, di dimensioni assai vaste, costruito al tempo e nello stile dei Tudor, con la facciata principale prospicente l'acqua, al pari dell'ampio terrazzo che si stendeva da uno dei lati, stagliava con vago effetto pittoresco la nuota accesa dei suoi mattoni sul verde copo degli alberi secolari che gli facevano da sfondo. Un ampio giardino, non indegno del nome di Parco, si stendeva tutto intorno, alternando le fresche ombre dei boschetti alle spianate erbose interrotte da frequenti aiuole. Con le foglie che già rivestivano le calde tinte dell'autunno, nel silenzio della placida notte di plenilunio, appariva quella sera soffuso di una singolare poesia, tranquilla e soave. Con impeccabile precisione, il baronetto aveva condotto i cavalli a fermarsi proprio davanti al portone d'ingresso e, nonostante l'ora avanzatissima, uno sciame di palafrenieri parve emergere dalla terra stessa e accorse a circondare la carrozza. Sir Percy saltò giù agilmente, poi porse la mano a Marguerite per aiutarla a scendere. Il fascino penetrante, il senso di calma e di riposo che emanavano dai dintorni, la indussero a indugiare all'aperto, mentre il marito, preso da parte uno dei domestici, gli impartiva qualche ordine sottovoce. Avanzò lentamente fino al prato vicino, fissando lo sguardo trassognato sul paesaggio argenteo. Non si udiva che il lieve mormorio del fiume e a tratti il fruscio appena percepibile di una foglia morta che cadeva al suolo. Lo scalpitio dei cavalli ricondotti nelle lontane scuderie e i passi dei servitori che si ritiravano dopo la loro breve apparizione si erano dileguati. La casa era immersa nel silenzio, ma in due file separate distanze, al di sopra delle magnifiche sale da ricevimento, i lumi splendevano ancora. Erano i rispettivi appartamenti dei due coniugi, situati ciascuno a un'estremità opposta dell'edificio, divisi da tutta la sua ampiezza, simbolo materiale delle loro esistenze, fra le quali si stendeva ormai un abisso. Senza sapere perché, la giovane donna trasse dal petto un profondo sospiro. Mai si era sentita così triste, così intimamente sola. Mai aveva aspirato con più vivo desiderio a un po' di affetto, di tenerezza e di simpatia come in quel momento. Con un gesto di stanchezza si mosse verso la casa, chiedendosi con una stretta al cuore se dopo quanto era accaduto in quella sera memorabile avrebbe potuto trovare ristoro nel sonno. D'improvviso, prima di raggiungere il terrazzo, odì un passo fermo sulla ghiaia del viale e dopo un istante vide l'alta figura del baronetto emergere dall'ombra di un gruppo di alberi. Aveva fatto il giro del palazzo dall'altra parte e dopo una breve sosta in giardino si preparava lui pure a entrare in casa. Portava ancora il pesante soprabito da viaggio, coi numerosi baveri sovrapposti di cui lui stesso aveva lanciato la moda ma rigettato all'indietro e affondava le mani nelle tasche dei calzoni di raso gialliccio come era sua abitudine. Il magnifico vestito adorno di pizzi acquistava un rilievo strano, quasi spettrale, profilato contro il fondo scuro dell'alto fabbricato. Certo non si era accorto della moglie perché proseguì il cammino senza fermarsi. Sir Percy le sfuggì involontariamente dalle labbra mentre lo vedeva mettere piede sul primo gradino del terrazzo avanzò rapidamente verso di lui. Appena la scorse illuminata in pieno dalla luna Blake ni si fermò di botto, si inchinò profondamente e rispose col tono di cerimoniosa galanteria che assumeva costantemente verso di lei. Sempre i vostri ordini signora. Ma non le si era avvicinato di un passo e qualcosa nel suo atteggiamento rivelava abbastanza chiaramente l'intenzione di ritirarsi subito. L'idea di un colloquio coniugale notturno non sembrava attirarlo. Quest'aria tiepida e veramente deliziosa e il chiaro di luna assai poetico. Tutto il giardino sembra invitarci a rimanere. La mia compagnia dunque vi è tanto importuna da ispirarvi una così grande premura di liberarvene? Tutt'altro milady, replicò lui con flemma. Mi pare che vi compiacciate di invertire le parti perché garantisco che appena me ne sarò andato troverete la luna e il resto anche più poetici e affascinanti di prima. Protesto Sir Percy, esclamò lei vivacemente, avvicinandosi di un passo. La strana distanza purtroppo intervenuta tra noi non è stata provocata dalla mia volontà. Ricordatelo. Diamine, in tal caso dovete scusarmi, la mia memoria è stata sempre molto labile. Non è vero, quattro anni fa mi vedeste una volta, per un'ora sola a Parigi, mentre stavate per intraprendere un viaggio in Oriente e al ritorno, tre anni dopo, non mi avevate affatto dimenticata. Era irresistibilmente bella, dritta nella luce bianca, col mantello impellicciato che le era scivolato dalle spalle lasciando allo scoperto il morbido collo, coi ricami d'oro della veste vaporosa scintillanti come gemme, con gli occhi azzurri sollevati verso lui in un'espressione dolce, quasi supplichevole. Persi rimase un istante muto e rigido, stringendo con la mano nervosamente contratta la balaustra marmoria del terrazzo. «Avete desiderato la mia presenza, signora?» disse poi in tono glaciale. «Non credo che ciò fosse per evocare delle tenere reminiscenze». La voce era fredda, quasi sprezzante, tutto l'atteggiamento mostrava indifferenza. Un naturale senso di dignitoso orgoglio spingeva Margherita a rispondere con uguale insultante riservo a ritirarsi con un breve cenno del capo, senza aggiungere parola. Ma il suo fine istinto di donna, conscia del suo potere, le suggerì di rimanere. Nessuna conquista è più preziosa di quella che si rifiuta, resiste, si ribella. E lei ardeva adesso dal desiderio di vedere ai suoi piedi, l'unico uomo che mostrasse di volersi sottrarre al suo dominio. «E perché no, amico mio?» riprese, tendendogli la mano. «Il presente non è tanto bello da non farmi sentire il bisogno di fissare un po' la mente sul passato». Leicni si inchinò di nuovo e, prendendo la mano che gli veniva offerta, la sfiorò appena con un bacio cerimonioso. «In fede mia, signora», dichiarò, «spero che mi perdonerete se il mio cervello ottuso è incapace di accompagnarvi in quelle lontane regioni». «Ma Percy», proruppe la giovane consubitania, inesplicabile veemenza, trattenendolo, «è davvero possibile che l'amore muoia a questo modo? Un tempo credevo che la vostra passione sarebbe stata eterna. Ditemi, non ne è rimasto proprio nulla? Nulla che valga colmare il triste vuoto che ci separa». Mentre parlava l'alta e massiccia figura di lui sembrava acquistare una rigidezza statuaria. La linea della bocca si induriva in una piega ostinata e un'espressione di inflessibile risolutezza si insinuava nello sguardo abitualmente assonnato. «A quale scopo tenterei una simile impresa, signora?» chiese sempre freddo. «Non vi capisco». «Eppure è semplice, ve lo domando umilmente perché sono troppo stupido e non riesco a penetrare il motivo di questo nuovo improvviso capriccio. Volete forse rinnovare il perfido gioco nel quale tanto vi compiaceste un anno fa? Volete vedermi ancora una volta ai vostri piedi, supplichevole, pazzo d'amore, per poi prendervi la soddisfazione di gettarmi da parte con un calcio, come si fa con un cane quando diventa importuno?» Finalmente era riuscita a scuoterlo. Nelle sue parole vibrava adesso un'amarezza profonda, tanto più palese quanto maggiori erano gli sforzi che tentava per reprimerla. «Per sì vi supplico non parlate così», mormorò Marguerite con un'intonazione di tenerezza un po' triste. «Non è possibile seppellire per sempre il passato. Se non erro, signora, siete stata voi a manifestare poco fa l'intenzione di rievocarlo. Oh ma non quel passato, Percy, non quello. Parlavo del tempo in cui mi amavate ancora e in cui anellavo con tutto il cuore a rendervi affetto per affetto. Oggi invece…» Si interruppe con un sospiro. La luna si era nascosta dietro una massa di nuvole basse. A oriente un lieve chiarore grigio cominciava a spezzare il greve mantello della notte. Percy non vedeva adesso che il grazioso contorno della snella figura e la linea seducente della fine testa circondata come da una corona regale dalla massa dei capelli di un biondo acceso su cui scintillavano le rosse gemme disposte in modo da formare il noto fiore di moda. «Ventiquattro ore dopo il nostro matrimonio, signora», rispose lui dopo una breve pausa. Appresi che la moglie di Sir Percy Blakeney aveva efficacemente contribuito a mandare alla ghigliottina il marchese di St. Cyr e la sua famiglia e non lo seppi dalle vostre labbra. «E voi lo credeste subito!» esclamò la giovane donna con impeto irresistibile. «Senza una prova! Voi che affermavate di amarmi più della vita! Mi credeste capace di un'azione malvagia e vile commessa con intenzione deliberata, senza giustificazioni, senza attenuanti. Non sapevate, non vi curavate di sapere come fino al giorno stesso in cui venne eseguita l'orribile condanna io mi adoperassi in mille modi, mettessi in moto il rischio di compromettermi tutti i mezzi di cui potevo disporre per salvare quelli che in un momento di esaltazione e di oblio avevo condannato. Non vi siete mai chiesto a quali irresistibili impulsi avessi obbedito nel pronunciare le fatali parole, né quanta astuzia sapiente, quanto malanimo nascosto fossero in agguato prima per provocarle, poi per rivolgerle allo scopo più funesto. Fu ingannata, suggestionata da gente abilissima che seppe far giocare il mio amore per il mio unico fratello e il mio desiderio di vendetta. Ecco tutto. Mi pare cosa tanto mostruosa, tanto indegna di scusa. Le lacrime le soffocarono la voce. I suavi occhi azzurri si fissarono su lui con una curiosa espressione di attesa, come davanti a un giudice. Il baronetto l'aveva lasciata parlare senza cercare di interrompere quello sfogo appassionato, senza un commento, senza un gesto di simpatia né di protesta. E ora, mentre lei taceva, cercando in vano di ricacciare le lacrime che le scendevano lungo le guance, aspettava, impassibile e muto. Nella scialba luce della prima aurora, la sua alta figura sembrava anche più massiccia, più rigida, più imponente del solito. La faccia gioviale e bonaria aveva subito una vera trasformazione. Nonostante la commozione che la invadeva, Margherita osservò che gli occhi di Percy avevano perduto il loro languore. Uno strano sguardo pieno di intensa passione repressa, saettava tra le palpebre ostinatamente abbassate. La bocca era strettamente chiusa, le labbra serrate, come se la forza di una volontà inflessibile riuscisse a fatica a dominare la tempesta interiore dell'animo, prossima a esplodere. Lady Blackney, prima di ogni altra cosa, era una donna, e della donna possedeva tutto il sottile intuito, tutto l'ardore impulsivo, tutta la complessità spesso contraddittoria di coscienza e di sentimento, in un attimo comprese come per mesi e mesi si fosse completamente ingannata, come l'uomo che le stava davanti, gelido come una statua di marmo, apparentemente insensibile al fascino della sua voce e del suo sguardo, non avesse mai cessato di amarla, come la grande passione di un tempo soffocata e compressa nelle profondità dell'essere, addormentata con sforzo ogni ora e ogni minuto, esistesse ancora, latente sì, ma tanto forte, tanto intensa, tanto divoratrice, come il giorno in cui le loro labbra si erano incontrate nel primo indimenticabile bacio. Solo l'orgoglio lo aveva allontanato da lei, lei che ora non solo giurava a se stessa di riconquistare quel cuore che le sfuggiva, ma si diceva, con un subitaneo accesso di rimpianto e di acuto desiderio, che ormai esisteva per lei una sola felicità in terra, abbandonarsi alla stretta di quelle braccia con la dedizione di tutto il suo essere, fondere in una sola le loro giovani esistenze, rinnovate in una seconda, più completa e più durevole fioritura del loro amore di un tempo. Ascoltatemi amico mio, riprese piano con dolcezza infinita, Armand allora era tutta la mia famiglia, tutto il mio mondo, orfani fin dall'infanzia, mi aveva fatto da padre e io avevo per lui allo stesso tempo la fiducia devota di una figlia e la tenerezza di una madre. Un giorno il marchese di Sensir lo fece bastonare a sangue dai suoi domestici. Capite per sì il mio fratello adorato e sapete perché? Perché oscuro plebeo aveva osato alzare lo sguardo sulla figlia di un gentiluomo. Oh le mie atroci, segrete sofferenze, lo strazio di quell'omiliazione suprema, di quell'insanabile ferita che sentivo costantemente vicina a me, senza poterla alleviare, raddolcire in nessuna maniera. Chiusa nel mio dolore impotente, l'odiai con tutte le forze dell'animo, quell'orgoglioso e vigliacco marchese, e quando potei finalmente vendicarmi di lui, lo feci con vero piacere, ma giuro davanti a Dio che nel proclamare il suo tradimento verso la patria intendevo soltanto esporlo al meritato disonore, attirare su di lui il disprezzo e la pubblica esecrazione. Quando parlai, ignoravo che coloro ai quali mi rivolgevo si sarebbero affrettati a comunicare le mie accuse alle autorità repubblicane e ignoravo soprattutto quale sarebbe stata la conseguenza immediata e reparabile della denuncia, e quando finalmente compresi l'importanza del mio atto avventato, era troppo tardi per pensare al rimedio. Forse è difficile rammentare con precisione ciò che avvenne a tanto tempo di distanza, replicò Blakeney dopo un breve silenzio. Tanto più che come vi ho già detto, la memoria mi serve poco, però se non erro, quando la voce che non eravate estranea alla morte del Marchese mi giunse agli orecchi, veni da voi lealmente e fiduciosamente a chiedervi una spiegazione qualunque del fatto, e voi me la rifiutaste nel modo più reciso, chiedendo al mio amore un'acquiescenza passiva che era in aperto contrasto col più elementare senso della mia dignità di marito e di uomo. Volevo misurarlo quel grande amore che proclamavate ad ogni istante, ma purtroppo non ha retto alla prova. Per corrispondere alla vostra aspettativa dovevo dunque scendere a compromessi col mio onore, dovevo accettare e approvare implicitamente, senza una protesta, senza un'interrogazione, ciecamente, sommessamente, come un umile schiavo, tutte le azioni anche dubbie della mia signora e padrona. Col cuore traboccante di affetto e di speranza avvenne da voi, ripeto, aspettando una confidenza piena, generosa, sincera, invocandola con tutte le forze dell'animo. Qualunque cosa mi avreste detto, qualunque giustificazione avreste trovato, ero pronto a credervi sulla parola, senza indagare e ad assolvervi nel modo più completo, e invece mi voltaste superbamente le spalle, ammettendo il fatto in tono di sfida, ma senza aggiungere una parola per attenuarlo, senza neppure pensare che avevo diritto di sapere, poi, come una regina offesa, tornaste a casa vostra, da vostro fratello, lasciandomi solo nell'amarezza del mio disinganno, incapace ormai di amare, di sperare, di credere, perché l'idolo cui avevo innalzato un tempio nel mio cuore, giaceva a terra, infranto in mille pezzi. In verità adesso sarebbe stato ingiusto tacciare quell'uomo di freddezza, sul suo volto, nella sua voce, in tutta la robusta persona, vibrava una potente commozione, fatta di collera e insieme di rimpianto che riusciva appena a contenere, nei giusti limiti, con uno sforzo sovrumano. «Ah, la miseria del mio orgoglio!» sospirò Marguerite con amarezza. «Appena vi abbia abbandonato me ne pentì amaramente, lo giuro su quanto ho di più caro, ma al mio ritorno vi trovai così radicalmente cambiato. Avevate già assunto quella maschera di indifferenza sonnolenta che non avete più deposto fino a questo momento». Gli si era avvicinata poco a poco, tanto che i morbidi capelli ondulati gli sfioravano le guance. Il fascino dei suoi degli occhi umidi di lacrime, della sua voce commossa, lo investiva tutto come una fiamma, ma lui non voleva cedere. Aveva troppo sofferto, nella tenerezza e nell'amor proprio, troppo aveva sanguinato a causa di quella donna, per non ribellarsi con tutte le sue energie alla vincente seduzione di lei. Chiuse gli occhi per sottrarsi all'irresistibile visione, poi dichiarò in tono glaciale. «Non è una maschera, signora. Vi ho giurato un giorno che la mia vita era vostra, e per mesi e mesi ve ne siete servita come di un giocattolo, che potete desiderare di più». Ma lei sentiva ormai che quell'indifferenza era voluta, simulata. A un tratto lo vide fare un movimento per ritirarsi definitivamente, e il ricordo di quanto era avvenuto al ballo la riprese, con un risorgere più impetuoso dell'atroce angoscia che l'aveva torturata per tutta la sera, ma insieme con un improvviso ritorno di speranza. Certo, quell'uomo che l'amava ancora non le avrebbe rifiutato il suo appoggio né terribile frangente. «Per sì», disse, cedendo all'impulso dell'animo, «Dio sa se avete reso difficile il compito che mi ero proposta, eppure non posso e non devo rinunziarvi, quando espresso il desiderio di parlarvi è stato perché ho dei gravi dolori, delle preoccupazioni urgenti, e mi proponevo di ricorrere a voi per aiuto, o quantomeno per conforto. Sono sempre gli ordini vostri, signora. Esponetemi liberamente, in che modo posso avere l'onore di esservi utile? Dio, in che tono lo dite? Ma non importa. Percy, Armand è in pericolo di morte. Una sua lettera, generosa come tutte le sue azioni, ma imprudente, diretta a Sir Andrew Fawkes, è caduta nelle mani di un fanatico. Mio fratello è reparabilmente compromesso. Domani forse essere arrestato e mandato alla ghigliottina, a meno che... Oh, è orribile, è orribile. Non potete comprendere tutto il mio affanno, tutta la mia disperazione, e non ho altri al mondo a cui rivolgermi. Il pianto a lungo trattenuto scoppiò irrefrenabile e violento. Tutte le acute emozioni di quella notte indimenticabile si fusero in un solo desolato scoraggiamento che le toglieva le forze. Vacillò come se stesse per cadere e, appoggiandosi alla balaustrata del terrazzo, nascose il capo tra le mani, si inghiozzando convulsamente. All'udire il nome di Saint-Just, Sir Percy era leggermente impallidito e l'espressione di ostinata energia si era fatta più visibile nei suoi occhi azzurri. Non proferì parola, guardava la gentile figura accasciata dal dolore e, a poco a senza che se ne accorgesse, le linee rigide del suo volto si raddolcirono fino alla tenerezza, mentre una lacrima involontaria gli brillava fra le palpebre socchiose. A un tratto, un impeto di passione folle, gli sollevò il petto, avanzò di un passo e tese le braccia, un istante ancora, e avrebbe dimenticato tutto nella gioia suprema di sentire quella creatura dorata stretta al suo petto, palpitante con lui, di uno stesso ardore. Ma anche questa volta l'orgoglio fu vittorioso, con un prodigioso sforzo di volontà si trattenne e disse semplicemente con molta gentilezza, via signora, non piangete così, non posso veder soffrire una bella donna. Non volete dirmi ciò che vi aspettate da me? Margherita represse a fatica e singhiozzi e, alzando il bel volto lacrimoso, tese la mano al marito che la baciò con la consueta galanteria, ma senza riuscire a dominare un lieve tremito delle labbra, più eloquente di qualsiasi parola. Potreste fare qualcosa per Armand ad operarvi in suo favore? Chiese la giovane donna, subito consolata. Avete tante relazioni potenti, tanta influenza a corte. E perché non vi siete rivolta prima di tutto al signor Chauvelin? È vostro amico e la sua influenza è certo maggiore della mia, poiché si estende fino alle sfere del governo della Repubblica. Lui, impossibile, Percy. Vorrei potervi dire tutto ma non oso, non mi riesce proprio, se sapeste. Avrebbe dato qualunque cosa al mondo per trovare il coraggio di parlare, di raccontare di ogni cosa, di fargli comprendere quanto avesse sofferto e in che modo fosse stata costretta ad agire contro voglia e contro coscienza, ma non aveva il coraggio di abbandonarsi a quell'impulso di sincerità, adesso che, con la convinzione di essere ancora amata, sentiva rinascere la lusinga di una prossima completa riconciliazione. E se lui non l'avesse compresa? Se non avesse apprezzato al suo giusto valore la grandezza della tentazione cui aveva ceduto, la violenza della lotta sostenuta prima di darsi vinta? Una confessione sincera poteva in quel caso uccidere in un colpo definitivamente quell'amore che, con trepida speranza, aveva appena sentito vicino a risorgere triunfante dalle sue ceneri. Forse il marito comprese ciò che le passava nell'animo, perché rimase immobile, in atteggiamento di ansiosa aspettativa. Sembrava che tutto il suo essere si tendesse nell'ante verso l'invocata confidenza che, in parte l'orgoglio e in parte un malinteso timore, trattenevano sulle labbra della donna. Finalmente, poiché lei continuava a tacere, disse con freddezza, ancora più spiccata di prima. Via, poiché sembra riuscirvi tanto penoso parlare dei vostri affanni, non vi tedierò con domande importune. Quanto ad Armand non abbiate paura, vi do la mia parola d'onore che vi sarà restituito sano e salvo. E ora, se non vi dispiace, vorrei ritirarmi, è tardi e sono un po' stanco. Non volete almeno permettere che vi esprima tutta la mia riconoscenza? disse Marguerite con voce piena di lacrime. Troppo presto, signora, non ho ancora fatto nulla. Mi ringrazierete semmai più tardi. Intanto l'onore di augurarvi la buonanotte. Con un gesto corretto si trasse da parte per lasciarla passare e lei si allontanò a testa bassa, reprimendo un singhiozzo. Dalla lotta tra la sua bellezza e l'orgoglio inflessibile dell'uomo, quest'ultimo era uscito trionfante. Forse non le credeva, forse scambiava la sua sincera commozione per un volgare artificio, inteso unicamente a riconquistarlo, o forse, peggio ancora, si era ingannata. L'amore era spento, del tutto spento nel cuore di lui, e la fiamma che aveva brillato per un istante nel suo sguardo, l'insolita vibrazione della voce, rappresentavano soltanto la protesta dell'amor proprio offeso, lo sfogo di un rancore lungamente accumulato che giungeva all'intensità dell'odio. Giunta sulla soia del palazzo, Marguerite si fermò un istante e voltò istintivamente il capo, sperando nell'inverosimile. Una parola, un gesto, un richiamo, ma il baronetto immobile e rigido sembrava la personificazione della freddezza ostinata e implacabile, e lei entrò in fretta per non fargli vedere le lacrime che le salivano copiose e irresistibili agli occhi, e fuggì di corsa nel proprio appartamento. Se avesse potuto indugiare non vista ancora un istante, il cuore le si sarebbe riempito di un impeto di gioia sovrumana, e la barriera che pareva innalzarsi più solida, più greve che mai tra quelle due anime, sarebbe caduta in franta come in un soffio di magia, perché avrebbe visto l'uomo forte, superbo, inesorabile, inginocchiato accanto alla balustrata di marmo, col capo nascosto tra le mani, piangere forte, lungamente ed isolatamente, come un bambino.